Oggi il caffè lo prendiamo con Alessandro Esposito, il folte player napoletano. Ciao Alessandro. Alessandro, iniziamo a fare una presentazione dell'Alessandro Esposito Player. Allora, io più che altro sono un amatore da dieci anni, ho provato a giocare online all'inizio quando ero precario, poi ho iniziato a lavorare e ho iniziato a giocare solo dal vivo. Due o tre volte al mese esco da Napoli per venire a giocare qui o in altri luoghi, a Las Vegas una volta all'anno, insomma cerco di fare il meglio che posso. Cosa ne pensi di queste grosse novità che abbiamo introdotto quest'anno? Mi piace della formula che porta alla fine anno una squadra a Las Vegas e sì, questi cambi, ad esempio l'abbassamento dello stack. Parliamo dei tuoi risultati, vedo qui una felpa dei campionati del mondo di Las Vegas, quest'anno hai fatto un grossissimo risultato, ce lo vuoi dire? Sono arrivato ventiduesimo al mostre stack da 1500 dollari, speravo di andarci meglio una volta arrivato là, anche se partendo forse avrei messo la firma partendo da Napoli per un risultato del genere. Noi ti salutiamo, ti aspettiamo ai prossimi eventi e soprattutto speriamo il prossimo anno che tu venga a Las Vegas con l'Italia Pocca Team e migliori questo ventesimo posto al mostre stack. Grazie, spero di essere con voi l'anno prossimo e tutta la stagione. Grazie ancora. Ciao, grazie. Grazie.